Indica è il videogioco e noi siamo qui per parlarne. Se non mi conoscete, io sono Francesco Toniolo, sono un professore universitario, mi occupo di videogiochi. Quello che vedete qui è un articolo che ho pubblicato qualche giorno fa sul mio sito personale. Qui sotto nella descrizione del video trovate il link, così vi invito ad andare a leggerlo. È un articolo che parla di veli, tra le altre cose, quindi un elemento piuttosto curioso. Ma c'è da dire molto su quello che è questo videogioco, che spero vi abbia incuriosito, se così non fosse tenetelo d'occhio, perché è effettivamente molto curioso, molto particolare. E come ho avuto modo di scrivere, sospetto questa cosa, cioè che entro un tempo relativamente recente nasceranno tutta una serie di riflessioni, di indagini, che partendo da questo videogioco andranno anche a collegarlo a quella che è la natura stessa del medium videoludico. Perché in effetti si presta molto bene per andare a spiegarlo. Ho scritto questo articolo dopo aver letto un altro contributo, che è stato scritto da Giulia Martino per Final Round, che era uscito qualche giorno prima, e che aveva dato degli spunti che ho trovato curiosi e che hanno iniziato a farmi ragionare in questo senso. Cioè su questo duplice ruolo che ha il nostro Indica nell'andare da un lato a mascherare, a occultare, ma poi subito dopo a rivelare quelle che sono delle dinamiche che noi troviamo abitualmente all'interno dei videogiochi e che quindi vanno a esprimersi in questo senso. Perché parlavo del velo? Ora il velo è chiaramente ben presente in Indica per il fatto che siamo nei panni di una suora. Ma non è solo questo. Il velo ha un immaginario molto ricco, molto potente, estremamente curioso, perché ha una duplice natura. Cioè da un lato il velo, pensate anche all'uso terminologico, va a velare, quindi va a coprire, va a occultare, va a nascondere qualcosa. Dall'altro lato ce la va a rivelare, a mostrare in che modo, per esempio, quando si va a utilizzarlo come una superficie su cui viene proiettato qualcosa. Per cui se da un lato abbiamo il velo del tempio, tanto per fare un esempio, dall'altro abbiamo la sindone e quindi, vedete, uno va a rivelare, a mostrare, l'altro va a nascondere ciò che è bene e che non venga visto. Tutto questo si è declinato in tantissimi modi nel corso del tempo, anche con false etimologie che erano tanto care ai medievali, quindi dove appunto velum era legato a celum, cioè al cielo, e celum era legato anche a celare. Quindi il cielo, anche lì se ci pensate, idealmente va a nascondere quello che è il paradiso, quindi va a occultarlo, ma al tempo stesso va anche a mostrarci qualcosa, va a darci questa immagine che noi nel mondo sublunare andiamo a vedere. Quindi il velo è un po' come lo schermo, anche qui. Infatti non a caso mi era capitato di citare un testo che ogni tanto vado a citare quando si parla di questi discorsi, che è Filosofia schermi di Mauro Carbone, che presentava proprio questo concetto dell'archischermo, quindi qualcosa che non è solo lo schermo fisico a cui noi siamo abituati oggi, che se ci pensate anche lì ha la stessa valenza, ma qualcosa di molto più ampio, quindi tutta una serie di superfici, di elementi che nel corso del tempo hanno avuto questa duplice funzione. Pensiamo anche, per esempio, uno degli esempi per l'appunto che faceva Carbone nel suo testo è quello della siepe, nel famoso infinito di Leopardi. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe, che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Quindi c'è la siepe, per l'appunto sulla cima di questo colle, che va a coprire la vista. Però ecco che subito dopo dice che, ecco, sedendo e mirando in terminati spazi di là da quella, per cui noi abbiamo anche questo fattore, cioè il fatto che il poeta Leopardi, sedendo dietro la siepe, vada a coprire la sua vista su quello che è l'orizzonte, questa cosa lo porta a vedere, perlomeno nella sua mente, quelli che sono appunto degli interminati spazi di là da quella, quindi va a riempire lui quel vuoto visivo che trova allora davanti a sé e quindi ecco, per esempio, che la siepe stessa occulta e rivela. E quindi abbiamo tutta questa serie di esempi che sono andato a citare qui di passaggio. E arriviamo poi appunto al discorso che dicevo, cioè perché indica è un velo, è il velo del videogioco da questo punto di vista, cioè qualcosa che va da un lato a occultare quelle che sono delle dinamiche che vengono effettivamente presentate in un modo nascosto, celato, ma poi ecco che in realtà il ragionamento stesso portato avanti dal videogioco ci porta a vederle nella loro nudità. In questo è soprattutto il diavolo che va a farlo. Sto dando per scontato, peraltro, che se state guardando questo video conosciate Indica, se no probabilmente l'avrete già chiuso molto prima di allora, però chi per caso fosse arrivato a questo punto senza saperlo, in questo videogioco appunto cominciamo nei panni di questa suora che sente la voce del diavolo. Quindi c'è questa tentazione, tutto sommato, che è la tentazione del disvelamento. E lo vediamo in appunto questa decostruzione, questa decostruzione rivelante, rivelatoria, di ciò che sta alla base di ogni gioco, cioè il fatto che noi abbiamo questi gameplay loops, questi loop, questi circoli, queste azioni ricorrenti che noi più e più volte andiamo a fare e che operano su una varietà di scala. Quindi abbiamo dei micro loop, che sono le singole azioni, volta per volta clicca il pulsante e succede questa cosa. Poi abbiamo il cosiddetto core loop, che sarebbe definibile come la sequenza loop più piccolo, ma che diventa al tempo stesso significativo, cioè quello che comincia a rendere interessante l'esperienza di gioco, che non è necessariamente quindi il livello più ristretto, dove sì, possiamo fare queste azioni ripetutamente, ma non sono effettivamente quelle che ci tengono catturati, che ci portano ad andare avanti. Andiamo magari a un livello un po' più ampio e questo è il cosiddetto core loop, la base, e poi ne abbiamo altri ancora più estesi. E quindi ripetiamo queste azioni in un modo anche spesso gioioso, appunto perché stiamo giocando, anche se a volte sono delle attività assolutamente fini a se stesse, assolutamente meccaniche, che in realtà hanno ben poco di divertente. E qui riprendo un punto che citava Giulia Martino nell'articolo, cioè questo fatto che indica va probabilmente oltre il concetto di divertimento. Non che sia certamente il primo gioco a farlo, ce ne sono stati tanti altri chiaramente citabili in questo senso, però è un buon esempio che possiamo aggiungere a questa lunga categoria, a questa lunga teoria, quindi una sorta di processione di videogiochi che avanza nel corso del tempo e che va oltre a questo concetto. Però appunto noi siamo immersi in quest'ottica e facciamo queste azioni che spesso sono totalmente fini a se stesse. E in effetti anche qui dicevo un primo elemento di disvelamento, in questo senso, per chi ha modo di leggerlo, di intenderlo, è proprio all'inizio del gioco, quando la nostra indica riceve questo compito. Dobbiamo andare cinque volte a un certo pozzo, che è lì vicino, prendere dell'acqua e versarla in questo barile. Tra l'altro il tanto il diavolo fa tutta una serie di commenti sulla futilità di questo gesto, sul perché si debba andare a prenderlo a quel pozzo quando lì vicino c'è un'altra sorgente d'acqua a cui però non si può attingere e intanto noi facciamo avanti e indietro. È la tipica missione videoludica per eccellenza, fai qualcosa per x volte finché non si può andare avanti. E appena abbiamo terminato questa operazione ecco che avviene questa cosa, che quest'altra suora va a rovesciare quella che è l'acqua che noi abbiamo raccolto. Quindi per quello diceva è l'inutilità dell'azione videoludica che viene espressa. Un'utilità o inutilità su cui certo dopo si può andare a ragionare perché se noi la prendessimo in senso assoluto verrebbero meno tanti discorsi fatti altrove. Per esempio il fatto che noi comunque dai videogiochi impariamo qualcosa, quindi traiamo comunque fuori nella nostra realtà un qualcosa, andiamo a portarci a casa qualcosina da quella serie infinita di loop. Però effettivamente se lo prendessimo nel suo dato così nudo e crudo per come è presentato ecco che in effetti siamo davanti a un qualcosa che ci appare in questo modo, che ci viene presentato in questo modo. Perlomeno questa è la tentazione, la tentazione del diavolo a cui noi siamo posti davanti e come indica poi possiamo metterci a pregare e vedere di andare oltre, quindi di superare questa tentazione dell'inutilità del videogioco, ma siamo posti davanti a essa in un modo molto chiaro e questo è sicuramente un fattore di grande interesse. Un elemento che è anche visivamente ripreso, questo è chiaro, quando abbiamo questi momenti di totale cambiamento, di follia, abbiamo intanto questo contrasto molto forte, molto evidente tra quello che è una ricerca anche esagerata per certi aspetti di realismo che viene esasperato che va a contrapporsi a tutta un'altra serie di segmenti dove invece il gioco assume uno stile grafico totalmente differente, così come quei momenti di improvvisa follia che sono legati a queste sorti di visioni di indica come quando si vede questa suora superiore che ha questa entità, questo essere, questo omino che esce dalla sua bocca. Questa tra l'altro sono andato a vedere qualche video anche e spesso sono dei momenti più commentati come scena proprio what the fuck cacchio sta succedendo così all'improvviso siamo lì con questa distribuzione della comunione ed ecco che arriva appunto questo elemento di disturbo la componente visiva è sicuramente significativa in questo senso ho ricordato questa frase che era curiosa che troviamo nel corpus to mysticum cioè che l'occhio è il portinaio del diavolo che apre tante riflessioni anche qui sicuramente in una ottica religiosa è nel senso che per l'appunto tanti peccati quindi le tentazioni del diavolo arrivano a noi soprattutto attraverso lo sguardo quindi il vedere un qualcosa che io vado a desiderare quando non dovrei è un elemento prima di tutto visivo poi gli altri sensi possono andare a rafforzarlo ma è soprattutto attraverso la vista che il diavolo va a tentarci e quindi uscendo poi invece da questo concetto e tornando al nostro indica è già attraverso questa discordanza visiva che noi siamo portati a capire che forse siamo davanti a un qualcosa che vuole farci spostare questo velo la classica immagine pensate il velo di Iside il velo di Maia ci sono tante espressioni che sono da declinarsi poi in modi diversi a seconda di chi la pronunciate però che sostanzialmente la nostra realtà materiale che ci circonda è per l'appunto velata l'ha trovata in tanti modi anche una declinazione contemporanea sarebbe la Matrix uscire dalla Matrix quindi come il mondo appunto di Matrix che è velato nel senso chi è dentro al suo interno non vede quella che è l'effettiva realtà e quindi ci sono dei modi più o meno leciti più o meno corretti più o meno funzionali di andare a svelare questa cosa vedete il termine stesso appunto di sollevare il velo o anche di squarciarlo eventualmente per andare a vedere cosa c'è oltre e quindi l'idea di Indy che è proprio questo ci dà modo di andare a buttare un occhio se noi vogliamo se andiamo a giocarlo in questo modo ponendoci degli interrogativi su quello che è il velo videoludico su cosa ci sta oltre su quella che è l'ossatura di tutti i videogiochi che è di solito una cosa che è ben nota solo a un game designer il quale anche mentre va a giocare ha modo di riconoscere di individuare questi loop che stanno dietro all'esperienza perché chiaramente ha un occhio esperto in questo in questo modo perché è una persona che va a creare e a controllare questi loop per vedere se sono effettivamente funzionali ce ne sono di tanti generi poi che vanno a declinarsi a seconda del contesto però l'utente medio comune standard di solito invece non è reso consapevole di questa cosa non va a porsi degli interrogativi su quelle che sono le sue azioni ricorrenti che sono in realtà molto simili in tanti casi a quello che fa indica al pozzo cioè il fare rifare rifare la stessa cosa che viene magari presentato in un modo ovviamente un po' più variegato perché sennò saremmo portati ad annoiarci in realtà non sempre siamo anche davanti a tutta una serie di videogiochi estremamente famosi dove si fa sempre 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 proprio la stessa azione ripetuta ma appunto non abbiamo questa consapevolezza siamo chiusi nel nostro velo siamo sotto un cielo siamo dentro una matrice che ci porta a non vedere tutto ciò finché ecco che arriva questa sua dente voce del diavolo che accompagna queste immagini che noi ci troviamo davanti dove appunto fanno i nostri occhi da portinai per questo sospetto un sospetto videoludico il sospetto che quindi appunto ci sia qualcosa dietro qualcosa dietro a questo velo che può essere squarciato e questo è uno degli aspetti che trovo almeno per ora più interessanti più significativi di indica ma non ho dubbi nel fatto che sicuramente in futuro se ne andrà ancora a parlare questa è la mia idea la mia aspettativa e magari ci riaggiorneremo tra un po' di mesi per vedere se sarà stato effettivamente così se inizieranno a nascere un po' di riflessioni o in ambito accademico o in ambito divulgativo o entrambe le cose staremo a vedere alla prova dei fatti intanto iscrivetevi al canale così da tenere d'occhio quelli che saranno altri video di questo genere come detto se volete leggervi l'articolo completo lo trovate qui sotto in descrizione oppure vi basta scrivere www.francescotognolo.com trovate il mio sito personale dove oltre a questo contributo sono elencate tutte le mie pubblicazioni alcune cose le ho pubblicate su quel sito stesso molte altre sono elencate nella sezione pubblicazioni e lì c'è un po' di tutto un po' di tutto